dietro la ciappa liscia in un contraforte del pian della roncalla si trova la grotta della torvina in essa più di 50 loculi scavati nella viva roccia alcuni profondi anche un metro testimoniano il culto dei morti degli antichi popoli liguri in età neolitica e del bronzo con tutta probabilità i popoli che risiedevano sul pian della roncalla adottavano il culto dell'incenerimento la grotta un tempo inaccessibile è divenuta visitabile solo nell'ultimo secolo per l'accumulo di detriti alla base della parete rocciosa titolidio afferma che i liguri erano attaccatissimi ai sepolcri degli avi e questa ne è una testimonianza da più di quattro millenni